The Legend of Zelda fu il nostro primo gioco che costringeva i giocatori a pensare a cosa dovessero fare dopo. Avevamo paura che gli utenti potessero annoiarsi o stressarsi troppo per questo nuovo concetto. Per fortuna reagirono in maniera totalmente opposta. Fu uno degli elementi che rese popolare il gioco e ancora ci dicono quanto fossero divertenti gli enigmi e quanto fossero felici quando riuscivano a risolverli e avanzare. Miyamoto 2015 Salve a tutti signori, io sono sempre Nicola Selvaggio ed oggi finalmente parliamo di The Legend of Zelda. The Legend of Zelda è una serie di videogiochi in ambientazione high fantasy creata da Miyamoto e Tezuka nel 1986 per il Nintendo. La serie di The Legend of Zelda è considerata una delle più importanti e acclamate del mondo videoludico. La maggior parte dei titoli che la compongono sono riconosciuti dalla critica come grande capolavori. Primi fra tutti The Legend of Zelda Ocarina of Time e The Legend of Zelda Breath of the Wild, considerati tra i migliori videogiochi di tutti i tempi. E' inutile che io vada avanti, la frase che ho citato all'inizio è già una chiave. Costringere i miei videogiocatori a pensare. Ho riflettuto molto a questa frase, a questo concetto, a questa idea, perché è la stessa che io tento di portare sul mio canale. Le mie speculazioni sono volte a voi, i dialoghi, i confronti, il potere esprimere i nostri e i vostri dubbi. E' esattamente lo scopo che il progetto Nicola Selvaggio si pone. Ed io l'ho ritrovato in una serie di videogiochi molto più antica di me. Quindi, ancora prima di entrare nel gioco stesso, dobbiamo parlare di una cosa chiamata filosofia del pensare e non del pensiero, del pensare, che sta alla base della concezione creativa della serie videoludica. Pensare vuol dire muoversi verso il bene e desiderarlo. Il desiderio genere il pensiero. Dunque, il bene stesso non deve pensare nulla, poiché non c'è altra cosa che sia il suo bene. Plotino. Il pensiero è stato studiato e analizzato da vari filosofi, psicologi, sociologi e anche da varie culture. In Socrate, per esempio, rimaneva sullo sfondo la dimensione ontologica della verità. Platone distinse due orientamenti, quello intuitivo e quello dialettico. Infatti, la ragione deve prendere atto che non può esistere un soggetto senza un oggetto. Ma in questo caso, parliamo proprio di pensiero kantiano. Kant fece del pensiero lo strumento della propria indagine critica, distinguendo due tipi di pensiero. I concetti dell'intelletto o categorie e i concetti della ragione o idee, che unificano a loro volta i pensieri dell'intelletto. Per Kant il pensiero è un legislatore della natura, fondato sul io penso, e il quale tra le leggi del mondo, non dall'esperienza, ma da se stesso. Tra Plotino e Kant riusciamo a definire The Legend of Zelda, inteso come gioco, sotto varie e molteplici forme. Dopo questo non breve cappello, passerò alla descrizione formale del mio video, divisa in più parti. Inizierò parlando della filosofia della Triforza. Sfrutterò l'aggancio per parlare della filosofia della natura e delle razze come per esempio i Goron, i Deku, gli Zola. Arriverò al piattoforte, cioè la filosofia di Link, Zelda e Ganon. E infine parlerò delle filosofie delle musiche. Siamo pronti? Partiamo! La filosofia della Triforza. La Triforza, a volte chiamata Potere Dorato o Triforza d'Oro, è una sacra reliquia creata da tre dee. La Triforza è composta da tre differenti parti, ognuna chiamata a sua volta Triforza. La Triforza del Potere, associata al colore rosso e alla dea Din. La Triforza della Saggezza, associata al colore blu e alla dea Nayru. La Triforza del Coraggio, associata al colore verde e alla dea Farore. La forma della Triforza è quella di un triangolo di Sierpinski di livello 1. Ora, c'è veramente tantissimo da dire, sia sulla filosofia del numero, sia sulla filosofia del numero 3, sia sulle forme triangolari e sul triangolo di Sierpinski. Per la prima volta, su questo canale, parlerò forse del filosofo più conosciuto dell'epoca antica, cioè Pitagora. Ricordatevi una cosa, la serie del leggendo su Zelda ha subito contaminazioni sia da parte della cultura orientale, sia da parte della cultura occidentale. E mixa tutto in maniera talmente perfetta, e qui ci torneremo perché è un dettaglio molto importante, da non farcene rendere conto. Per le culture orientali, il 3 è il numero perfetto, poiché è il numero della totalità cosmica, cielo, terra, uomo. Ma altre sono attribuiti significati magici, simbolici di tutte le civiltà, basta vedere anche il cristianesimo, la trinità. Ma indubbiamente, la scuola pitagorica e Pitagora sono coloro che maggiormente esaltano il concetto stesso di numero. Si riunivano in segreto per discutere le loro scoperte matematiche. Solo gli iniziati erano omessi, e avevano per simbolo la stella a cinque punte. Per chi non lo sapesse, la filosofia di Pitagora e dei pitagorici, pur originaria delle colonie ioniche, come quella dei millesi, si sviluppò soprattutto nelle colonie italiche della Magna Grecia. Perdonatemi il cappello, ma la cultura pitagorica risente di molteplici e diverse influenze. La cultura e la filosofia ionica, ovviamente, Pitagora fu forse allievo di Anassimandro, non abbiamo prove, i culti dionisiaci della Grecia continentale, l'orfismo, le religioni orientali, che Pitagora probabilmente conobbe durante i suoi numerosi viaggi. Per i pitagorici l'archè era il numero, almeno questo ci dice Aristotele. Una delle massime diffuse all'interno della scuola pitagorica recitava che cosa c'è di più saggio? Il numero. Che cosa c'è di più bello? L'armonia. Tre triangolo che compongono la triforza. Quale concezione di numero avevano i pitagorici? E quale significato filosofico aveva porre il numero come principio di tutte le cose? I pitagorici non consideravano il numero un'entità astratta, bensì concreta. I numeri venivano considerate grandezze, avente espansione, avente estensione e forma. Dai numeri derivano tutte le cose, nel senso che tutte le cose, tutte le relazioni tra le cose sono esprimibili attraverso determinazioni numeriche. Il numero rende intellegibile la realtà delle cose, in quanto ne rivela la struttura quantitativa e geometrica. Te lo immagini un mondo senza numeri? Una partita di football non avrebbe punteggio. È la fin. È difficile che un cervello come il nostro comprenda il divino, o almeno vedere il divino. L'essere umano vede tutto secondo forme e concezioni che riesce a riprodurre. Un oggetto creato da 3D deve essere per forza riconducibile a qualcosa che il nostro cervello può capire. Un triangolo. Più di un triangolo. La triforza. Fermare che le cose sono costituite da numeri e che il numero è la componente fondamentale di tutta la realtà, significa dunque ritenere che la vera natura dell'universo è ordinabile e misurabile attraverso la matematica. E poi, anche se questo è molto di più facile l'intuizione, ogni numero corrisponde a una figura. L'1 è il punto, 2 è la linea, 3 è il triangolo. Figura piana primissima. Dice una massima di Filolao, in vero, tutto quello che si conosce ha un numero. Senza il numero non sarebbe possibile né pensare né conoscere alcunché. Frase che indubbiamente è correttissima. Ma veniamo nello specifico. Su questa base, i pitagorici furono spinti a trovare corrispondenze magico-religiose tra alcuni numeri e fenomeni diversi della vita. Il numero 1 esprime l'intelligenza, immobile e identica a se stessa. Il numero 2 esprime la mobile opinione, che oscilla incerta verso direzioni opposte. E il numero 3, che rappresenta il numero perfetto per i pitagorici, unità e molteplicità allo stesso tempo. Per questo, la terza parte della Triforza, quella del coraggio, è quella che spetta a Link. La filosofia della natura. Alt, vi fermo subito. Non ho parlato del coraggio, della saggezza e del potere, perché sono temi che riprenderò quando mi toccherà parlare di Link, Zelda e Ganon. Per introdurre l'argomento la filosofia della natura, devo necessariamente richiamarvi un ricordo. Qual è stato il vostro primo The Legend of Zelda? E qual è, ad oggi, il vostro preferito? Ovviamente io ho idee molto chiare. So che il mio primo episodio della saga è stato Link's Awakening, ma purtroppo ero piccolo e il gioco mi era arrivato in inglese, quindi all'epoca rinunciai a proseguire, anche se anni dopo l'ho ripreso. Ma notai comunque quello che sarebbe diventata la base per il mio discorso. Dall'altro lato, invece, il mio gioco preferito della saga è Majora's Mask. E riflettete un attimo. Quali sono i colori che maggiormente risaltano durante il gioco? Il colore fondamentale 1 è il verde. Verde bosco. Verde natura. La saga ha uno degli aspetti più positivi e propositivi che io abbia mai visto in qualunque tipo di videogioco e o anche di film. Un amore spassionato e sincero verso la natura e verso gli esseri viventi. Il verde, il bosco, le foreste sono sempre stati uno degli specchi dell'umanità. Di volta in volta, il viaggiare, il passeggiare, l'avventurarsi dentro questo strano miscuglio colorato, ha incarnato ideali, vagheggiato utopie, soddisfatto desideri e affrontato paure. Con uno stretto contatto con la natura, l'uomo ha trovato un ambito privilegiato per riflettere, ma anche un interlocutore capace di lanciargli sfide e spalancargli opportunità. La natura è un mistero da esplorare e al tempo stesso fonte di piacere, una materia da plasmare o una maestra fonte di ispirazione. Da Oriente a Occidente, dai tempi più remoti fino ad oggi, la natura ha parlato ai filosofi, ai poeti, agli artisti, a tutta l'umanità, anche a Miyamoto, che è portatore di un messaggio che affonda le radici nella nostra più autentica e intima essenza. E non solo, non parliamo di natura intesa soltanto come vegetazione o come vastità di oceani, parliamo anche di differenze razziali, i Deku, i Zola, i Goron e ancora piango per il grande Darmani. Tutti gli esseri viventi hanno sì caratteristiche in comune, ma ne hanno anche tantissime differenti. Ed è proprio questo il fulcro e la chiave della natura di Zelda. Siamo tutti diversi, ma siamo tutti uguali, indipendentemente dalla razza. Ma c'è di più, molto di più. Clages diceva che l'essere è dunque parte di un'orchestra musicale, dove la materia è lo strumento. L'esecuzione orchestrale, quindi, rappresenta il ritmo vitale e la melodia che ne deriva. L'unione tra razionalità e vitalità. Così, gli esseri sono come parte dell'orchestra, dove ognuno, nella propria diversità e in completezza, riesce a creare, insieme agli altri, una melodia perfetta. Se noi non diamo aiuto agli altri, a tutti gli altri personaggi che incontriamo durante la saga, durante la nostra avventura, noi non possiamo andare avanti. E Link, pur essendo il protagonista, pur essendo il personaggio principale, senza l'aiuto di un altro personaggio, che è importante tanto quanto me, non può proseguire nella sua avventura. Non ho mai visto, da nessuna parte, un messaggio così tanto propositivo. E è realizzato talmente tanto bene. E poi, immaginate di essere veramente tutti uguali. Non avremmo di che discutere, di che parlare, di che crescere. Vivremmo in un imbutabile triste presente. I vari villaggi, le varie cittadine, che incontriamo nel corso della nostra avventura, rappresentano una versione allargata e moderna della famosa polis greca. Tutti gli abitanti sono in grado di fruire della cultura prodotta in ciascuna delle polis di Hyrule o Hyrule. Non mi prendete appugni. Perché ogni abitante, in quanto cittadino e membro del microcosmo della polis, riconosce come propri problemi e soluzioni che vengono proposte in ogni opera. E accetta o contesta i valori da esso diffusi. Per questo è giusto dire che la cultura delle città di Hyrule o Hyrule è una cultura basata sulla polis. L'universo delle città, con i suoi valori e i suoi conflitti, ne costituisce l'orizzonte fondamentale. E il cittadino col quale Link si confronta, ma anche Zelda essendo la principessa e anche Ganon, essendo loro i suoi futuri schiavi, sono i destinatari. Chiudiamo questo breve argomento, che però a me stava tanto a cuore, con Sofocle. La natura può essere assunta come fonte di valori e come criterio di valutazione di norme e comportamenti. Anche perché noi, noi esseri umani del 2020, possiamo parlare per esempio di leggi della fisica e leggi dello Stato, intendendo che le prime descrivono rapporti e regolarità riscontrabili nei fenomeni, le seconde prescrivono comportamenti in violazione dei quali è prevista una sanzione. Nel pensiero greco di Sofocle, al contrario, l'ordine universale e necessario delle cose è visto in un quadro normativo. In questo quadro concettuale, la legittimità dell'ordine umano e la validità delle sue leggi si fondano nella loro conformità dell'ordine naturale. Meraviglioso. Non ho ancora iniziato a parlare dei personaggi e già Zelda ha aperto un quantitativo improponibile di porte filosofiche. Ribadisco, meraviglioso. Quando ti ho vista, ho capito che saremmo stati uniti per sempre. Per te ho viaggiato ai quattro angoli del mondo. Ho affrontato avversità. Sono diventato un eroe. Papà? Ho salvato il tuo regno. Papà? Hai detto qualcosa? Mi stai scambiando ancora con la principessa? Siete entrambe così magiche. La filosofia della principessa Zelda. Parliamo finalmente del personaggio più emblematico della saga di The Legend of Zelda. La o le principesse da cui i giochi stessi prendono il nome. L'evoluzione di questo personaggio nel corso degli anni è stata notevole. Chi si ricorda i primi episodi, quelli vecchi come me sicuramente, rimembreranno sempre la principessa Zelda come una fanciulla carina e ingenua da dover salvare. La classica principessa da salvare. Ma andando avanti, col proseguo della trama videoludica, iniziamo a scoprire e a toccare con mano le personalità della nostra principessa. Sotto sotto è una bambina impaurita e anche leggermente innamorata di Link. Ma è anche una principessa che si fa carico degli enormi problemi del regno. E infine abbiamo il suo terzo aspetto, quello che la trasforma in eroina, il prendere in mano e di petto i problemi. È divertente come anche lei si divida tre volte come la triforza. Alla nostra principessa spetta, la triforza della saggezza. Ed è giusto che sia così. Ad un eroe non deve mancare il coraggio. Il cattivo vuole solo il potere. Il regnante di un regno deve essere saggio. Ma saggio nella maniera aristotelica. Secondo Aristotele, la saggezza è la più importante delle virtù di Anoetiche, proprie della facoltà calcolativa dell'anima razionale. La saggezza consiste, da un lato, nella disposizione a calcolare il giusto mezzo, commisurandola al soggetto dell'azione morale e alla situazione concreta in cui egli si trova ad agire. Dall'altro, ed è questa la funzione maggiormente sottolineata da Aristotele, nella disposizione a ben deliberare intorno ai mezzi più idonei per conseguire un fine buono. La saggezza, cari signori, sempre secondo Aristotele, differisce dalla semplice abilità. Per un tratto fondamentale, la saggezza può essere utilizzata e indirizzata solo al conseguimento di fini buoni, il che non accade per l'abilità. Altro dato a cui tengo particolarmente è il fatto che in ogni gioco della saga Zelda e Link hanno la stessa età. Hanno la stessa età perché coraggio e saggezza devono proseguire di pari passo. Il coraggio senza la saggezza è semplicemente sconsideratezza folle. La saggezza senza coraggio porta all'ascetismo. Concedimi la serenità di accettare le cose che non posso cambiare. Il coraggio di cambiare le cose che posso è la saggezza per conoscerne la differenza. È giusto che la principessa sia la portatrice del dono più difficile da usare. E sapete perché è giusto? Perché ci insegna ad avere ideali di un possibile cambiamento, sia per se stessa, sia per la sua condizione. Ci insegna che è importante essere ribelle quando si deve essere ribelle, e coraggiosi, ma anche saggi e riflessivi. Che sono caratteristiche che ritroviamo anche in qualche canone Disney. Negli anni, la principessa Zelda scardina completamente il ruolo del suo essere regnante e passiva, per un fine ben superiore. La principessa Zelda è ormai un elemento ben radicato nella nostra cultura. Notiamo come i suoi tratti e i suoi modi siano cambiati. Ed è bellissimo vedere come anche la principessa, cambiando, ci ha raccontato i cambiamenti che la società all'interno del suo sistema videoludico ha affrontato e creato. Lunga vita a te, o mia principessa. La filosofia di Ganon Ganon, noto anche come Ganondorf Dragmire nella sua forma gerudo, è l'antagonista principale della serie di videogiochi di Legend of Zelda. Nei giochi, il personaggio alterna due forme. Un'enorme creatura demoniaca, simile a un cinghiale, e un gerudo alto e robusto. La motivazione specifica di questo personaggio varia da gioco a gioco, ma il più delle volte riguarda la cattura della principessa Zelda e la pianificazione di conquistare Hyrule o Hyrule e il mondo in generale. Nella maggior parte dei giochi possiede la Triforza del Potere. La Triforza del Potere è un terzo dell'intera Triforza che gli conferisce una forza divina, un potere mistico illimitato e in vulnerabilità a tutte le armi sacre, tranne le più potenti, come la Master Sword. Prima di passare all'analisi stessa del personaggio, vorrei fare un piccolo accenno al cinghiale e al maiale, soprattutto nelle culture orientali. Il cinghiale è associato alla mascolinità e alle manifestazioni estreme, quale l'aggressività, il coraggio, la lotta, la sete di sangue, l'intemperanza, la gola, l'immoralità e la dissolutezza. Mentre il maiale, soprattutto nel buddismo, si trova al centro della ruota dell'esistenza e rappresenta l'avidità e l'ignoranza. L'ignoranza, poi, è una delle tre illusioni che impediscono alla persona di arrivare alla pienezza della vita. Fine ultimo della stessa. Tanto per fare un piccolo paragone crossover che a noi piacciono sempre tantissimo, mi ricorda il videogioco per la PlayStation 1, Tombi. Questa era una terra pacifica di grande bellezza. A un giorno arrivarono sette maiali malvagi. Giussero all'improvviso e usarono i loro poteri per distruggere questo mondo. Per qualche ragione quei malvagi maiali collezionano oro. Scommetto che il bracciale di tuo nonno, rubato dal komabuta, è un bracciale d'oro. I sette maiali malvagi si nascondono in qualche angolo di questa terra. Se li trovi, ritroverai anche il bracciale. Ma ricorda di stare attento. I maiali malvagi traevano il loro potere magico dall'oro, dalla loro stessa avidità. In una almeno molto semplicistica concezione possiamo riassumere i tre grandi personaggi come gli stereotipi portati all'eccesso di loro stessi. Ganon o Ganandorf incarna il male e se togliamo le ultime concezioni in cui scopriamo essere dominato mentalmente abbiamo un quadro di lui molto specifico se ci rifacciamo alla triforza del potere. Per prima cosa, come fece Dostoievski, dobbiamo distinguere tra malvagità e male, tra un modo di essere del soggetto e l'esito dell'interazione tra soggetti. Se la malvagità riguarda la struttura della coscienza del singolo il male è una modalità d'espressione del potere. Potere, o meglio, è il prodursi nella storia di una situazione maligna che è l'effetto di un'interazione collettiva tra gli sconfinamenti della libertà. Ganon quindi abusa del proprio arbitrio in maniera elevatissima e rappresenta un demone che corrisponde al male che si rende visibile. Tutti i demoni condividono un unico e assoluto desiderio prendere il posto di Dio nella sua infinita libertà. Effettivamente Ganon però si limita soltanto a tentare di conquistare e dominare Hyrule o Hyrule e tutto l'universo limitrofo. Qual è quindi la grandezza che si trova nella triforza? La triforza è una fonte infinita per Ganon di potere ed è così che una creatura finita tenta e tende all'infinito. Ma Ganon non è una creatura infinita e quindi una creatura che non può creare cosa può fare? Distruggere. Ed è così che il male entra nel mondo. Ed è una diabolica malattia soprattutto per chi come noi ha viaggiato nei meandri di questo videogioco. Chi ha conosciuto le varie creature come ho detto prima? Ganon o Ganondorf è un virus. Il suo potere proprio perché oltrepassa ogni limite non può che essere pure energia di dominio. Inesauribile fonte di sofferenze e morte. Nichilismo, male e potere di nuovo è il numero 3. Una triangolazione con la quale possiamo chiudere la tragedia di Ganon. Volontà, onnipotenza e nulla. Signori, ci troviamo di fronte al male fatto personaggio di un videogioco. Vi siete mai soffermati a pensare se quello che fate è davvero ciò che volete? Prendiamo questa situazione. Uscite di casa al mattino e andate al bar a fare colazione. Avete preso un cappuccino e brioche. È davvero quello che desideravate prendere? Da una prospettiva prettamente metafisica se non avessimo scelta qual è allora il nostro scopo? Eppure, pensando razionalmente com'è possibile che l'uomo desideri, operi e pensi senza che ci sia una concatenazione di causa-effetto così complicata che è impossibile manipolare a piacimento? La scelta del cappuccino e della brioche derivano unicamente da rimembranze, ricordi di esperienze positive associate a questa deliziosa colazione. Skinner direbbe che è stata una scelta basata sul condizionamento operante. Stamattina vi siete svegliati e per premiarvi in vista della pesante giornata vi siete regalati una buona colazione. Non avevate scelta? O meglio, ce l'avete? Ora che la decisione è stata presa. Ma è troppo tardi per tornare a casa e rimanere a letto, non è vero? Aristotele e Socrate sostenevano qualcosa in più. L'azione libera e volontaria nasce da una profonda conoscenza e virtù d'animo e non condizionata da fattori esterni. In altre parole, sapere cosa comporta, intraprendere una scelta, genera una preferenza che è sempre libera se nasce dalla virtù. Ma questo concetto è ancora troppo labile e oltretutto se la virtù è un parametro decisivo ancora non possiamo dire di essere liberi dai concetti morali o sociali. Eppure in tempi moderni la neuroscienza ha osservato che è la nostra mente a prendere le decisioni ancor prima che il nostro consione prenda atto. Essa è rilegata a risposte biochimiche che hanno la forma di cultura, ambiente e società. In che modo Link ha scelta negli innumerevoli capitoli che compongono la leggenda di Zelda se anche nei mondi paralleli egli segue gli stessi principi? E ancora, è Link a condizionare il giocatore o è il giocatore a essere condizionato dal gioco? Ma che importanza ha dopo tutto non essere liberi di scegliere se il mondo è una prigione perfetta? La filosofia di Link Amico mio Bene, con queste due parole Robin Williams doppiato dal magistrale Carlo Valli descrive perfettamente il mio e il vostro amore per questo personaggio. Riescono a fare più le due parole di Robin Williams di un'intera spiegazione. Link L'eroe della serie The Legend of Zelda o Eroi della serie The Legend of Zelda Il o i prescelti dalle dee per proteggere la terra dal male. L'eroismo per definizione. Ma non voglio iniziare subito con la filosofia dell'eroe voglio prima parlarvi di una cosa che L'Hot Twist si collega a quanto detto fino ad ora. Quando era piccolo Miyamoto viveva in mezzo alla natura non aveva una televisione ma non gli serviva nemmeno. La vegetazione di Sonobbe se si pronuncia così sua città natale gli permetteva di esplorare ogni tipo di bosco lago zona rocciosa e di conoscere pianti, insetti e animali di ogni tipo usciva di casa si lanciava all'avventura in un mondo sconosciuto tra le sue scoperte c'era persino una grotta che aveva trovato in un luogo un po' isolato per entrare decise di cercare una lanterna per vedere cosa ci fosse dentro torno a casa e poi percorse tutta la strada al contrario verso un luogo freddo scuro e misterioso era un bambino però si sentiva un eroe in mezzo all'ignoto in questo aneddoto signori c'è tutto c'è la natura c'è lo spirito di avventura c'è Link c'è perfino il mutismo il bambino osserva il bambino gioca il bambino esplora leggerete dappertutto che Link non parla per garantire una maggiore immersività al giocatore ma non è necessariamente così o meglio non è solo così Link siamo noi siamo noi che prendiamo in mano il joystick o joypad che dir si voglia siamo noi che accendiamo la console e noi purtroppo non possiamo parlare all'interno del videogioco altrimenti ci comporteremmo anche in maniera diversa Link siamo noi che era se ci pensate la stessa epifania che Kojima voleva far arrivare col suo Metal Gear e non è vero che Link vince sempre Link vince quando noi completiamo la sua avventura quando noi ci arrendiamo vince Ganon noi abbiamo la possibilità di vivere quasi in prima persona una grandissima avventura basata su amicizia su esplorazione su natura raramente mi sentirete elogiare una trama videoludica in una maniera così profonda e non ho parlato e non parlerò di universi paralleli perché anche lì potremmo aprire un mondo sapete il professore tedesco Felix Adler diceva l'eroe l'eroe è colui che accende una grande luce nel mondo che mette delle torce fiammeggianti nelle strade oscure per chi gli uomini possano vedere beh sì quelle torce o quella polvere che accendeva le torce mi è stata utile in più di un'occasione vedete signori ci troviamo di fronte a uno stile hegeliano purissimo Hegel vede negli eroi o individui della storia del mondo gli strumenti delle più alte realizzazioni della storia essi sono i veggenti sanno quale sia la verità del loro mondo e del loro tempo quale sia il concetto l'universale prossimo a sorgere e gli altri si riuniscono intorno alla loro bandiera perché essi esprimono ciò di cui è giunta l'ora negli eroi infatti agisce la stessa necessità della storia perciò resistere ad essi è un'impresa vana essi sono spinti irresistibilmente a compiere la loro opera questo per quanto riguarda la persona di Link per quanto riguarda la storia il filosofo Thomas Carlyle nel suo culto degli eroi pone due presupposti il carattere provvidenziale della storia che si crede diretta a realizzare un piano perfetto e il privilegio accordato ad alcuni uomini di essere strumenti principali della realizzazione di questo piano facciamo adesso un piccolissimo accenno al taoismo che sono le famose dottrine a carattere filosofico e mistico esposte principalmente nelle opere attribuite alla Ozi e tutto quello che ho detto può essere ritrovato nel taoismo uno dei parametri fondamentali del taoismo è la religione concetti come yin e yang attraverso la comprensione del cosmo dell'universo o della natura ci si può applicare nella comprensione di se stessi alla crescita individuale insomma nel taoismo pratichiamo la comprensione di noi stessi per capire chi siamo nello studio di sé il taoismo menziona sempre il fatto di ritornare ad essere uno a uno con la natura e questo principio guida lo studio della medicina come di altre pratiche quale ad esempio la meditazione se uno come link migliora se stesso il mondo cambierà piuttosto che partire dal voler migliorare il mondo sperando così che venga migliorato il sé questa parte l'ho messa da link perché è forse il vero e più segreto messaggio che gli autori ci mandano tentano di spronarci a migliorare e migliorando noi stessi potremo sì migliorare il mondo la filosofia della musica le musiche senza prenderci in giro giocano un ruolo preponderante nelle nostre avventure il tema principale quello di ormai più di 30 anni fa è un tema che riflette la ribellione dell'eroe con una musica che comincia in modo lugubre triste che però si inalza fino ad arrivare a un tono epico audace ma pacato l'eroe si è sollevato contro lo sconforto iniziale ma la lotta è difficile e il cammino rimane arduo la musica sembra voler trasmettere questo mi tocca ancora una volta parlare del mio filosofo preferito Arturo Schopenhauer la musica coglie la volontà nella sua purezza ancora prima di oggettivarsi nelle idee tutte le arti colgono la volontà in maniera mediata cioè rappresentando idee mentre la musica è un'immagine immediata della volontà e della sua trascendenza Song of Storms Songs of Epona il tema dell'eroe la musica è del tutto indipendente anche dal mondo fedomenico semplicemente lo ignora e potrebbe in un certo qual modo sussistere anche se il mondo non fosse più affatto il che non può essere detto a proposito di altre arti l'organizzazione di armonia melodia ritmo rappresenterebbero la struttura metafisica che la volontà imprime al mondo e questo vale sia per le filosofie occidentali che per le filosofie orientali siamo finalmente saluti cari signori dopo questa attraversata lunghissima innanzitutto ringrazio game x files proseguo dicendovi che forse il prossimo video sarà la filosofia del gdr dove porterò l'episodio 0 di una mia campagna se il video riscuoterà successo proseguiremo altrimenti ci ributteremo sulla filosofia e so so benissimo che posso essere attaccato sotto 30 o 40 punti diversi e se volete farlo fatelo se il video vi è piaciuto mettete mi piace condividete iscrivetevi fino a cellate un abbraccio dal vostro Nicola Selvaccio